benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi benvenuti e bentornati benvenuti e bentornati ragazzi a questo video particolare di ferragosto che avete fatto a ferragosto che avete fatto ieri a ferragosto e anche oggi credo che sia ancora compreso secondo me ferragosto è tipo 14, 15 e 16 un lungo ferragosto fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché adesso andiamo a reaccionare ai cosplay di ferragosto tu dici ma che cazzo vuol dire i cosplay di ferragosto i cosplay che andremo a cercare oggi perché oggi lo fa questo video lo sto registrando ieri 15 ferragosto quindi andiamo su facebook e vediamo i cosplay di ferragosto gli ultimi cosplay che sono stati pubblicati quindi andiamo a reaccionarli e a dargli un voto così voto 10 voto 10 chi si meriterà il voto 10 non lo so fatemelo sapere voi nei commenti qua sotto dopo che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale attivate la campanella mettete like commentate e fate tutto il coso dovete fare sempre dai 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 iniziamo subitissimo a vedere i cosplay di ferragosto allora vediamo come ho detto ho scritto su facebook cosplay e vediamo gli ultimi cosplay che sono stati pubblicati nelle varie fiere perché dall'ultima fiera ne hanno fatte un paio altre di fiere che non abbiamo votate reaccionato e reaccionato ma recuperiamo subito in questa occasione quindi andiamo subito a vedere qua il primo cosplay questo è lorenzo che fa il cosplay di sanji della versione one piece devo dire molto bene molto dettagliato molto dettagliato mi piace mi piace manca però manca però manca però manca però lo strofinaccio il cannavaccio sulla spalla chissà se l'hai portato ci vuole il cavetti manca poco per rendere tutto più preciso il cannavaccio sulla spalla andiamo avanti vediamo questo è Maurizio Merluzzo è tanta roba raga tanta roba d'altronde una foto del 2021 complimenti e quindi una foto del 2021 complimenti andiamo avanti ok facebook mi consiglia sempre foto molto aggiornate devo dire questo invece è la vostra è la vostra è uscita i vostri cosplay Marvel Alessio ha fatto la versione maschile di banda devo dire devo dire mi piace posso dirlo possiamo dirlo possiamo dirlo possiamo dirlo diciamolo mi piace mi piace mi piace mi piace un cosplay molto ben fatto ben dettagliato andiamo avanti ma non è da 10 non è da 10 quindi vediamo chi è il dia ragazzi secondo me dice lui raga complimenti complimenti ad andrea ha fatto il genio della lampada raga il genio della lampada mi piace mi piace possiamo dirlo questo invece è Venom Venom e beh Venom con i guanti da sci chissà che caldo sta soffrendo chissà che caldo sta patendo e da di speriamo che ci abbia l'aria condizionata poi questa è non capisco non capisco se è proprio lei o è proprio l'attrice è fatta proprio precisa te posso dire anche perché è proprio uguale all'attrice con complimenti non so da quale parte tu venga ma complimenti secondo me 10 già non sei meritato tu andiamo avanti vediamo chi altro ci sta ha fatto la zombie questo è il cosplay dell'ammiraglio vediamolo in grande devo dire bravo mi piace mi piace ma andiamo avanti andiamo a lui ragazzi complimenti allora questo non so se è un cosplay fatto apposta però ragazzi che sta ti posso dire ragazzi che sta tanto allenamento soprattutto poi vediamo cos'altro c'è cos'altro questo qua che cazzo mette dentro c'è il bidone con la sca... ah questo è di Roger Rabbit del 2019 sempre foto molto aggiornate grande Facebook proprio grande questo invece la faccia sdoppiata di questa cosplay la faccia sdoppiata è molto strano mi sa che è tipo un effetto fotografico andiamo avanti ho visto lei lei mi piace complimenti complimenti non so chi tu sia ma il cosplay questo cosplay l'ha proprio preso alla perfezione posso dirlo possiamo dirlo e diciamo un gelelo mi piace parecchio secondo me il 10 te lo sei meritato tu secondo me ma vediamo a fine video a fine video decreterò chi si meriterà il 10 non lo so per ora sono in due che si ballano il 10 lei è quell'altra di Star Wars che non mi ricordo come si chiama Leia mi sa che è Leia però siete in due siete in due vediamo lui è un personale questo personale lui Lucifero mi piace pare le ali te le copierò non so chi tu sia ma queste ali proverò a copiartele proverò forse anche con scarsi risultati ma ci proverò andiamo avanti vediamo quali altri cosplay ci sono iniziamo da loro da loro raga complimenti oh porca troia bello 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 mamma mia oh e raga qua l'ormone è superato eh niente l'ormone della è quella di prima non può non la non se batte questa secondo me raga secondo me tanta roba andiamo avanti vediamo qualche ultima foto vediamo lei lei cos'è di Aloy bello mi piace molto dettagliato eh ma anche anche questo bello dettagliato complimenti chi altro ce sta l'altro cosplay ci sta questo di super mario questo è zoro sempre sempre queste foto con questi cosplay di foto molto aggiornate del 2021 bello molte molte grazie eh molte grazie facebook grazie per essermi molto aggiornato grazie mille grazie mille e poi vediamo cos'altro sta che altro cos'è c'è sta vediamo vediamo lui a parte diciamo già il vincitore indiscusso il vincitore morale è lui vincitore morale e lui fleximan top raga top ce ne fossero ovunque di fleximan in giro quindi per ora è il vincitore morale vincitore morale è lui fleximan ma quello ufficiale quello ufficiale qual è ragazzi quello ufficiale andiamo a scrollare quello ufficiale tra tutti questi raga se la giocava vediamo se la risuoco ecco se la giocava lei 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 se la giocava poi se la ballava pure pure lei se la ballava che non so che personaggio sia credo sia di street fighter non lo so se la ballava pure lei come 10 però ragazzi niente è inutile il vincitore di oggi di ferragosto il vincitore di ferragosto sono lui raga loro meritano il 10 e l'ode secondo me raga 10 e l'ode per loro 2 anzi loro 3 c'è stato c'è stato soprattutto per il cane non mi ricordo come si chiama ma anche per lui per tutta l'armatura anche per lei fatto bene niente raga complimenti e oggi ferragosto l'avete vinto voi voi invece ragazzi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro cosplay da 10 tra questi che abbiamo visto quindi ragazzi abbiamo visto questi cosplay di ferragosto oggi un video un po' così un po' light diciamo così per chiacchierare voi invece ragazzi fatemi sapere nei commenti qual è il cosplay che abbiamo visto che più vi piace che secondo voi è da 10 noi invece ci vediamo al prossimo video che ancora non so quale sarà ma ci sarà un prossimo video ragazzi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale ciao